La Napoli City of Marathon con il nuovo record della gara, un'ora e 12 secondi, anche lui Kenya, un grande applauso per Abel Kipchumba! Partenza da Viale Kennedy, attraversamento della città con due passaggi sul lungomare, arriva all'interno della mostra d'ultremare, un percorso migliorato e velocizzato rispetto ai precedenti, anche grazie al quale oggi il risultato sportivo è stato di livello mondiale, con il miglior tempo stagionale di categoria e gli specialisti keniani a dominare la gara. La quinta edizione della mezza maratona di Napoli, organizzata da Napoli Running, è davvero diventata grande, con 6.700 iscritti, di cui 1.280 donne, a creare una lunghissima scia di appassionati e professionisti, un successo garantito dalla partecipazione dei campioni internazionali ed anche dalla corsa ad inviti parallela della Napoli 5 km Grand Prix. Quest'anno c'è il record di questa competizione, Alf Marathon, siamo molto contenti, 6.000 partecipanti, un successo organizzativo, tutti entusiasti. Ancora una volta Napoli all'altezza di sfide sportive così importanti e l'anno prossimo cercheremo di fare ancora meglio, ancora di più, ancora più in alto, in vista anche delle universiadi. Grazie.